Musica Regione Campania, ieri il primo consiglio regionale, Rosa D'Amelio eletta presidente del consiglio. Questa mattina il procuratore della Repubblica del Tribunale di Lago Negro, il dottor Vittorio Russo, è in visita presso l'ospedale di Polla. Vicenda Palazzo Bellavista, martedì 7, incontro tra comune e condomini, si va verso la soluzione condivisa. Teggiano, ieri nel castello Macchiaroli la presentazione del nuovo brand di Amaro Teggiano realizzato con il contributo della Banca Montepruno. Teggiano, da domani sera e per il mese di luglio, nei fine settimana, la piazza ai bambini. Buonasera, ben trovati a questa nuova edizione con l'informazione di Uno News. In apertura la politica, ieri prima seduta del consiglio regionale, Rosetta D'Amelio è stata eletta alla carica di presidente del consiglio. De Luca ha presentato la sua giunta e il suo programma. E non sono mancate le critiche da parte di Movimento 5 Stelle che ha protestato e appunto le critiche anche da parte del centrodestra. Vediamo. Con circa una ventina di minuti di ritardo rispetto alla tabella di marcia, si è svolto ieri pomeriggio il primo consiglio regionale della Campania. Il primo atto del nuovo consiglio è stata l'elezione del suo presidente. Con 49 voti favorevoli su 51, Rosetta D'Amelio è stata eletta. Un consenso bipartisan per il consigliere più anziano che De Luca ha definito nel suo discorso persona di qualità. De Luca ha poi ringraziato Stefano Caldoro per i cinque anni passati al servizio della regione e ha illustrato il suo programma. La Campania per il nuovo presidente della regione deve diventare la più grande piattaforma logistica dell'intera Europa rilanciando la portualità, il turismo, i poli d'eccellenza di cui la regione è ricca e anche quella vocazione industriale che da tempo è smarrita e che ha nell'aerospazio una eccellenza mondiale. Insomma De Luca punta sull'orgoglio chiamando a raccolta anche l'opposizione cui offre la sua disponibilità a risolvere i problemi al di là delle bandiere politiche. Se da un lato il Movimento 5 Stelle, escluso dalle nomine di ufficio, di presidenza, ha messo in scena una prima protesta ponendo cartelli «La noestà vi fa paura», dall'altro lato il presidente uscente, capo della minoranza Stefano Caldoro, non ha risparmiato critiche alla Giunta e al presidente De Luca. Affidare sei assessori, le deleghe di due assessorati, credo che sia un record mondiale. Probabilmente ci sarà bisogno di una manutenzione nelle prossime settimane. E poi De Luca ci aveva promesso, ha aggiunto Caldoro, che ci avrebbe fatto sognare con il vicepresidente ma è venuto fuori Fulvio Bonavitacolo, il fido Fulvio come dice qualcuno. Oltre alle proteste in aula, anche fuori dalla sede del Consiglio regionale non sono mancate proteste con in piazza i lavoratori degli stabilimenti HP di Pozzuoli a rischio chiusura, i rappresentanti di Campania e Ambiente, il Comitato regionale Reddito di Cittadinanza, il Comitato per la Terra dei Fuochi, i precari BROS, coordinamento di lotta per il lavoro di Napoli e provincia. E ora una notizia di cronaca. Nella tarda serata di ieri il personale della sottosezione della Polizia Stradale di Eboli nel corso di servizi di vigilanza sulla strada, sulla carreggiata sud dell'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria tra Battipaglia e Eboli ha intercettato un'autovettura Fiat Punto rubata alcuni giorni fa a Scafati. A bordo dell'autovettura viaggiavano quattro cittadini di nazionalità rumena di 26 e 27 anni e di 20 e 21 anni, tutti pregiudicati per reati contro il patrimonio. I quattro soggetti sono stati denunciati per ricettazione il conducente e anche per guida senza patente. L'autovettura rinvenuta, risultata oggetto di furto, è stata sottoposta a sequestro. Andiamo avanti con le nostre notizie, ci spostiamo a Polla dove questa mattina il procuratore della Repubblica di Lago Negro, il dottor Vittorio Russo, è stato in visita presso il nosocomio pollese per conoscere la struttura e quanti operano all'interno di essa, oltre che per avviare iniziative di collaborazione a tutela della sanità e della giustizia. Il procuratore Vittorio Russo ha avuto anche modo di conoscere e contemporaneamente anche di salutare il direttore sanitario dell'ospedale Luigi Curto di Polla, il dottor Aristide Tortora, che da lunedì sarà in servizio presso l'ospedale di Scafati, e il direttore amministrativo del Luigi Curto e il dottor Edmondo Iannicelli. Io credo che era giusto poi conoscere tutte le parti del territorio che fanno parte del Tribunale di Lago Negro e dopo l'accorpamento che c'è stato abbiamo cercato poi di presentarci e di conoscerci in tutte le realtà istituzionali. Siamo stati qualche mese fa a Sapri, all'ospedale di Sapri e ci sembrava giusto e corretto poi completare questo giro di conoscenze poi venendo qui a Polla nell'altro ospedale che fa parte della zona di Sala Consilina che è stato poi accorpato al Tribunale di Lago Negro. Era un giro di conoscenza doverosa ed anche di stabilire una interlocuzione proficua che io ritengo sia sempre importante che le istituzioni si parlino. Quindi volevo essere qui per conoscere, per rendermi conto di eventuali criticità e per dare la disponibilità poi della Procura anche a progetti di miglioramento di prassi. Mi riferisco in particolare ad un protocollo d'intesa che è il mio intendimento fare sia per gli infortuni sul lavoro sia per i reati in danno di donne e reati di natura sessuale dove il primo impatto poi con gli operatori sanitari è fondamentale anche per istradare nel senso giusto poi l'attività giudiziaria. Quindi quando le istituzioni si parlano io penso che è sempre un fatto positivo. Procuratore, da quello che lei ha appena detto, giustizia e sanità sono due dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. C'è l'impegno, insomma, a questo punto è chiaro da parte vostra proprio quelli di garantire questi due diritti. Ah sì, fondamentali, assolutamente fondamentali e credo proprio che un'interlocuzione, ovviamente ciascuno poi nella sua sfera di autonomia ci mancherebbe, ma quando le istituzioni si parlano è sempre proficuo per i risultati che si possono ottenere. La Buona Scuola diventa legge. Ieri il voto decisivo alla Camera per dare quindi il via libera definitivo alla legge Buona Scuola come l'ha definita il Premier Renzi. Intanto dai dati delle prove invalsi i ragazzi del Sud mostrano minori conoscenze rispetto ai coetanei del Nord in matematica e in italiano. Vediamo. Con 277 voti favorevoli e 173 voti contrari ha passato l'ultimo scoglio alla Camera il disegno di legge sulla scuola. Il ministro Giannini ha parlato di una svolta, si introduce il merito, si eliminano le graduatorie permanenti, un precariato durato decenni, si investono 4 miliardi di euro, si sburocratizza il sistema e si responsabilizzano i dirigenti e le scuole. Finalmente l'autonomia trova la sua applicazione. Come ricordato dal ministro, a settembre gli studenti troveranno una scuola propositiva in cui ci potrà essere il potenziamento di alcune materie. Il principio introdotto è quello del curriculum flessibile. Uno studente, ha aggiunto il ministro, avrà una rosa di materie tra le quali scegliere per arricchire il suo percorso formativo. Una riforma che secondo il numero 1 di Viale Trasfettevere aiuterà soprattutto il sud in quanto si sbloccano risorse per superare il divario esistente. Un divario evidenziato anche nella giornata di ieri con la pubblicazione dei risultati delle prove invarsi, i test scritti che valutano i livelli di apprendimento. I dati evidenziano in modo chiaro e inequivocabile che tra nord e sud c'è un gap non di poco conto, ma il centro con le marche guadagna la palma di migliore. Il rapporto sulle rilevazioni nazionali degli apprendimenti rileva che il gap si registra a partire dalla terza media con il nord che consegue risultati di gran lunga superiori alla media nazionale. A livello di scuola primaria il divario è più contenuto anche se la campania fa registrare dati pessimi con quasi sempre 10 punti al di sotto delle altre regioni. Tra i 13 e i 14 anni, tra nord e sud, il divario è di 14 punti in italiano e di 19 in matematica, dati che testimoniano come la scuola funziona non in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Il ministro Giannini nel commentare questi dati ha dichiarato. Il divario tra nord e sud non è più tollerabile, bisogna partire da un processo di recupero, ma c'è bisogno di una consapevolezza. Il sud può diventare il volano dello sviluppo. A sentire le parole del ministro dunque la buona scuola dovrebbe colmare questo gap. Tuttavia non tutti sono d'accordo sulla riforma, tanto è vero che le sigle sindacali hanno annunciato che la mobilitazione continuerà con tutti i mezzi possibili. Torniamo sulla vicenda relativa al Palazzo Bellavista, perché con un incontro in comune tra l'amministrazione comunale di Sala Consilina e i condomini del Palazzo di Via Macchia italiana si è aperto un tavolo di confronto in merito al possibile trasferimento degli uffici del piano sociale di zona, avviato un dialogo per una soluzione condivisa da entrambe le parti. Con una nota stampa i condomini di Palazzo Bellavista di Via Macchia italiana, dove è previsto il trasferimento degli uffici del piano di zona, rende noto che nella serata di martedì 7 luglio presso l'aula consigliare del comune di Sala Consilina si è svolta un incontro tra il sindaco Francesco Cavallone, i rappresentanti dell'amministrazione comunale e i condomini di Palazzo Bellavista. Questi ultimi da sempre si oppongono al paventato trasferimento dell'ufficio del piano sociale di zona S10 nell'appartamento sito al secondo piano di Palazzo Bellavista, anche in base al regolamento condominiale che evidenzia come la destinazione degli immobili sia ed esclusivo uso abitativo. Come riporta la nota, ciascuno ha spiegato le proprie motivazioni nella vicenda, partendo ovviamente dalle proprie posizioni iniziali. Ma la cosa importante, sottolinea il comunicato, è che nel corso della discussione è emersa la reciproca volontà di superare le sterili contrapposizioni e individuare percorsi condivisi per trovare una soluzione al problema sul tavolo. Sia gli amministratori locali che i condomini hanno valutato positivamente l'incontro e questo può essere considerato un primo fondamentale passo verso una soluzione condivisa. L'obiettivo comune, prosegue la nota, è proseguire sulla strada del dialogo, una strada capace di garantire i diritti dei condomini senza ledere le prelogative dell'amministrazione comunale. I condomini ringraziano l'amministrazione comunale e il sindaco per l'attenzione alla disponibilità dimostrata nell'incontro e inoltre sono fiduciosi in una positiva soluzione dell'avvertenza e resteranno vigili affinché nessun uso diverso dell'appartamento venga fatto fino alla definitiva soluzione, così come rassicurato dallo stesso sindaco di Sala Consilina. Allo stesso tempo, e si chiude la nota, i condomini ringraziano tutti coloro i quali nelle scorse settimane hanno compreso e condiviso le loro problematiche a partire dai consiglieri comunali Colucci, Sant'Arsiere e Galiano e i loro rispettivi gruppi fino al Codacons Vallo di Diano e all'associazione I nostri figli. Ci spostiamo ora a Silla di Sassano dove questa mattina i bambini e le famiglie, ospiti della vacanza del sorriso, sono stati accolti dalla pasticceria Peccati di Gola e dintorni a Silla di Sassano, ai bambini e alle famiglie. La direzione ha voluto non soltanto offrire il pranzo ma anche una torta e alcune ore di relax con i gonfiabili presenti nel piazzale antistante la pasticceria. La grande torta è stata preparata dal maestro pasticcere Cono Tropiamno, ma ascoltiamo i titolari della pasticceria insieme a Don Bernardino Abades che ha accolto gli ospiti della vacanza del sorriso. Oggi è una giornata molto bella per noi, per tutta la comunità di Silla, di Sassano e per noi è un orgoglio avere questi bambini qui nel nostro piazzale, nella nostra sede di Peccati di Gola dove giustamente come hai detto per loro sono delle belle giornate che ricordano venendo dal nord, da tutta Italia, noi cerchiamo di ospitarli come meglio possiamo. E che dire, un bocca al lupo a questi bimbi, siamo felici di dargli tutto quello che possiamo. Ringrazio Cono e tutto il suo staff di Peccati di Gola per che riviviamo questa esperienza già vissuta qualche giorno fa nella villa comunale. Questi bambini che purtroppo sono affetti da patologie molto molto serie per loro, per le loro famiglie, vogliamo come dice madre Teresa di Calcutta, regalare un sorriso perché nessuno deve andare via da noi senza aver ricevuto almeno un sorriso. Il sorriso d'altronde arricchisce chi lo riceve senza impoverire chi lo dà. Da qui l'abbiamo trascorso insieme a questi bimbi che sono meravigliosi e grazie a loro oggi ci hanno reso e così partecipo a questa giornata. Difatti ci stiamo divertendo. E ascoltiamo ora invece le impressioni di alcuni partecipanti alla vacanza del sorriso, in particolare un genitore proveniente da Caserta che parla soprattutto dell'importanza che iniziative del genere possono avere nel percorso di guarigione dei bambini e di uno dei tanti bambini che ha partecipato alla vacanza del sorriso con la sua famiglia. Vediamo. Io penso che siano sicuramente proficue per la finalità di tale evento e soprattutto diciamo relativamente ai bambini che passano un periodo quantomeno di reclusione dettato dalle terapie e quant'altro la vacanza del sorriso diciamo che in primis si occupa di farli risocializzare perché loro comunque hanno vissuto per le problematiche fisiche diciamo in un periodo abbastanza isolati. La vacanza è strutturata in modo abbastanza direi egregio e consolidato perché ci sono delle escursioni in dei posti meravigliosi, bellissimi e che magari i genitori non avrebbero mai potuto accompagnarli non conoscendole e quindi suppongo che vadano anche pubblicizzati un pochettino in più. Inoltre hanno avuto la possibilità di unirsi ai propri coetanei che hanno vissuto dei periodi diciamo terribili come i loro e quindi si ripropone praticamente a 360 gradi di occuparsi del bambino su tutte le sfaccettature che convocano la propria vita e quindi la vacanza del sorriso può essere un reinizio di una nuova vita con una marcia in più. L'accoglienza è incredibile, in tutti i paesi abbiamo avuto un'accoglienza diciamo una vicinanza fuori da ogni luogo e ogni dove e quindi non resta altro che farla condividere, continuare assolutamente tutti i clienti devono continuare a sopportare i bambini e cercare di fare aderire quante più famiglie possibili alla stessa. Secondo lei le vacanze del sorriso possono essere un'ottima terapia per questi bambini? Sicuramente perché già in ospedale ti spiegano il fenomeno della resilienza la resilienza diciamo che è un fenomeno scientificamente provato che un bambino affetto da una malattia oncoematologica o da una malattia grave nonostante diciamo la sua parte psicofisica venga impattata dopo al recupero delle energie, finite le terapie il bambino ha una marcia in più ha una marcia in più che si è vista diciamo anche in America sulle discipline sportive e quindi la vacanza del sorriso può racchiudere anche questo punto di rafforzamento psicofisico del bambino ed è anche un aiuto per le famiglie che l'hanno sostenuto che comunque hanno vissuto diciamo questa reclusione. Siamo comandi? Allora sei qui in questo Vallo di Diano insieme a bambini che non avevi mai conosciuto cosa pensi di questo territorio ma soprattutto cosa pensi della vacanza? Sono stati bravi? Sì sono stati bravi. Ti sei divertito? Sì molto. Cosa ti è piaciuto di più? Non lo so tutto. Vi ringrazio tutti per la festa e a presto. Ci vediamo il prossimo anno. E ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e riprenderemo tra pochissimo con il resto delle nostre notizie. Bentornati alla seconda parte del nostro TG e andiamo a Teggiano dove ieri sera grande partecipazione e curiosità per la presentazione nella splendida location del castello Macchiaroli del nuovo brand dell'amaro Teggiano prodotto dai giovani Vincenzo Tropiano e Vincenzo Sorbo. Le spese per la realizzazione del nuovo brand sono state sostenute dalla banca Montepruno. Il castello Macchiaroli di Teggiano ieri sera ha ospitato un evento che ha dato speranza per il futuro economico e dei giovani del Vallo di Diano. Vincenzo Tropiano e Vincenzo Sorbo hanno dimostrato che con la volontà di fare e credendo nei progetti e nelle idee si possono ottenere grandi risultati. I due giovani hanno creduto nella realizzazione e nella commercializzazione di un prodotto da loro realizzato, un liquore dolce a cui hanno dato il nome Amaro Teggiano e dallo scorso anno si sono presentati sul mercato valdianese andando in breve a raggiungere anche mercati internazionali vendendo l'Amaro anche in Danimarca. Stiamo parlando di un prodotto di nicchia che si vuol far rimanere tale anche per garantire la qualità dello stesso. I ragazzi ci hanno creduto e lo hanno proposto al pubblico con un piccolo stand la scorsa estate in piazza. Da lì è partita anche la collaborazione con il castello Macchiaroli con la proprietaria Gisella Macchiaroli che colpita dal gusto dell'Amaro Teggiano ma soprattutto dai due giovani che con le loro sole forze e consapevole delle difficoltà portavano avanti con umiltà e impegno il progetto ha aperto loro le porte del bellissimo castello Macchiaroli simbolo di Teggiano per promuovere l'Amaro da loro prodotto. Questi due giovani e l'impegno profuso nella realizzazione dei loro sogni hanno particolarmente colpito anche il direttore generale della Banca Montepruno Michele Albanese che ha così deciso di aiutarli nella realizzazione di una campagna promozionale in grado di favorire la diffusione dell'Amaro Teggiano offrendosi con il suo istituto di credito di sostenere le spese per la realizzazione di un nuovo brand che ne rendesse più accattivante la commercializzazione. Ieri sera la presentazione del nuovo brand nella splendida location del Castello Macchiaroli alla presenza di tantissime persone che come Gisella Macchiaroli e Michele Albanese credono nell'idea di Vincenza Tropiano e di Vincenzo Sorbo i due giovani che con grande umiltà e con la volontà e la forza dimostrano attraverso il loro Amaro Teggiano che nel Vallo di Diano se davvero si vuole si possono portare avanti e realizzare i propri sogni. E ascoltiamo ora le interviste realizzate a margine dell'evento di presentazione del nuovo brand dell'Amaro Teggiano. Questi giovani ci danno le grandissime soddisfazioni io ricordo che circa un anno fa stavo passeggiando per il Viale di Teggiano quando a un certo punto ho visto un banchetto con delle bottiglie mi sono avvicinata e ho riconosciuto Vincenza che conosco da sempre ed Enzo ho detto ragazzi ma che cosa sono queste bottiglie? L'Amaro di Teggiano stiamo cercando di... ed avevo un entusiasmo così contagioso che a un certo punto ho detto guardate noi lasceremo il castello aperto in occasione della principessa Costanza perché non venite al castello e lo promuovete lì? non ce lo sono fatti ripetere in un secondo la sera sono arrivati hanno montato un angolo un corner devo dire anche molto elegante e raffinato e i nostri ospiti sono stati contentissimi per cui si è creata una folla che non riusciamo quasi a entrare nel castello da quel giorno l'Amaro di Teggiano non ha più lasciato il castello e fa parte di tutti i nostri eventi è partita da cercare di avverare un sogno ovvero noi avevamo come gioia gioia quello di regalare questo progetto inizialmente al nostro padre Gaetano Tropiano poi la cosa è stata fatta con il cuore con una forza e una tenacia tale che siamo riusciti a far diventare l'Amaro Teggiano come un prodotto quasi simbolo della tenacia e della forza dei giovani del Vallo di Diano quindi diciamo che tutto è nato da un piccolo seme questo seme ora sta germogliando e grazie proprio alla forza che ci viene data dai tanti ragazzi ma non solo dalla tanta gente che ci è vicina in questo progetto soprattutto che apprezza il prodotto a Maro Teggiano stiamo crescendo e questo è solo un primo inizio una prima tappa noi ci auguriamo di avere tante altre cose da dire e di far capire che in questo vallo c'è una gioventù meravigliosa siamo partiti con nulla con nulla completamente abbiamo fatto i primi stand qui a Teggiano poi pian piano la gente ci ha dato fiducia attraverso le prologo le organizzazioni private siamo arrivati addirittura a collaborare con l'Università di Salerno con il Davimedia oppure con Salerno Letteratura come che abbiamo concluso la settimana scorsa speriamo di continuare a crescere speriamo di farci conoscere meglio al di fuori del Vallo di Diano purtroppo il nostro è un prodotto di nicchia non è un prodotto industriale e noi cercheremo di mantenere questo prodotto tale per mantenere la qualità come ci diceva Samuel de Subsonica qualche tempo fa che con il San Simone che è rimasto all'interno del Piemonte della regione Piemonte noi cercheremo di rimanere qui con alta qualità e nelle enoteche al di fuori del Vallo di Diano è veramente un'emozione importante e particolare stasera inauguriamo questo nuovo brand di questo Amaro Deggiano l'abbiamo voluto con forza sono dei ragazzi giovani hanno avuto un approccio con la nostra banca molto sincero cordiale affettuoso dimostrando che avevano veramente tanta voglia di fare e di fronte a tanta voglia di fare di fronte a tanto entusiasmo la nostra banca non poteva fermarsi e lasciarli soli abbiamo immaginato così di finanziare questo loro progetto partendo da quello che è il nuovo brand hanno voluto conservare il nome Amaro Deggiano questo è significativo hanno voluto restare la cartina del Vallo di Diano sulle loro etichette e questo è ancora di più significativo significa che credono credono in quello che fanno credono in questo territorio così come ci crediamo noi si tratta di l'elaborazione di giovani che hanno pensato di valorizzare un prodotto tipicamente tigianese che sta a quello che pare conquistando i palati di mercati che vanno al di là del nostro territorio comunale ma anche del Vallo di Diano io a questi giovani faccio l'augurio che questo prodotto si affermi sempre di più anche perché per noi è un onore presentare questo marchio quello di Teggiano e ci spostiamo ora a Padula sviluppo sostenibile salvaguardia del territorio ed equità fiscale nella gestione dei tributi sugli immobili è il titolo dell'evento formativo che si svolgerà il prossimo 14 luglio presso l'ora consigliare della comunità montana Vallo di Diano presente anche l'ISTAT l'agenzia delle entrate e il comune di Ferrata che illustrerà una best practices attuata nell'ambito dell'anagrafe comunale integrata e del recupero dei tributi il 14 luglio alle 9.30 presso l'aula consigliare della Certosa di San Lorenzo a Padula si terrà l'evento formativo sviluppo sostenibile salvaguardia del territorio ed equità fiscale nella gestione dei tributi sugli immobili organizzato dalla comunità montana Vallo di Diano nell'ambito del progetto agenzie di innovazione e ricerca territoriale parteciperanno l'ISTAT l'agenzia delle entrate e il comune di Ferrara quest'ultimo invitato per illustrare una best practice attuata nell'ambito dell'anagrafe comunale integrata e del recupero dei tributi formazione e trasferimento di competenze acquisite per una migliore gestione e salvaguardia del territorio ma anche per l'attuazione di una più precisa politica di perequazione fiscale sono gli obiettivi dell'evento nel corso della giornata formativa si discuterà dell'archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane di tributi senza tralasciare termini di altrettanta attualità come il nuovo catasto e la sicurezza e la tutela del territorio all'evento prenderanno parte l'ingegner Carlo Cannafoglia ex direttore centrale della direzione cartografica catasto e pubblicità immobiliare dell'agenzia del territorio l'architetto Francesco Di Pede e il dottor Gianluigi Salvucci dell'Istat e la dottoressa Rosa Fogli responsabile ufficionagrafe immobiliare e toponomastica del comune di Ferrara importante sarà anche l'intervento dell'agenzia delle entrate di Salerno nella persona della direttore la dottoressa Rosa Sirianni e dei referenti per la toponomastica l'ingegnere Gerardo Palumbo e il perito informatico Antonio Vischi la conclusione invece è affidata al confronto con il dibattito finale preseduto dall'ingegnere Stefano Farina torniamo a Teggiano domani sera prende il via una nuova iniziativa dell'amministrazione comunale di Teggiano guidata dal sindaco Rocco Cimino che punta a rendere protagonisti della piazza San Cono i bambini con una serie di attività e con la presenza dei gonfiabili che riempiranno la piazza nei fine settimana di luglio l'evento denominato la piazza ai bambini prenderà il via domani sera alle ore 20 fino alla mezzanotte e domenica per domenica 12 luglio per lo stesso orario con appuntamenti che si ripeteranno in tutto il mese di luglio vediamo parte una nuova iniziativa dell'amministrazione comunale di Teggiano per quest'estate 2015 un progetto dedicato esclusivamente ai bambini che li vedrà protagonisti e primi usufruitori della bellissima piazza San Cono dove sarà allestito un parco giochi dedicato con tutta una serie di attività correlate che saranno finalizzate esclusivamente al divertimento e alla gioia per i bambini di Teggiano e non solo l'evento denominato la piazza ai bambini e curato dall'associazione Evergreen partirà domani sera 11 luglio alle ore 20 fino alla mezzanotte e proseguirà anche domenica nello stesso orario il sindaco Rocco Cimino con l'ausilio della sua amministrazione ha deciso di rendere protagonisti i bambini e di dedicare loro attività specifiche che possono consentire il trascorrere di alcune ore di divertimento in totale libertà pensando nel contempo anche ai genitori che possono così trascorrere del tempo in totale relax da domani sera quindi la piazza principale di Teggiano diventerà un parco giochi con tanti gonfiabili che saranno pieni di bambini gioiosi inoltre per i piccoli sono previsti spettacoli di animazione e avranno a disposizione anche dei truccabimbi per rendere ancora più festose le serate la presenza di mascotte arricchirà ulteriormente il tutto il consigliere delegato Vita Antonio Cobucci a cui il sindaco Cimino ha affidato il compito di organizzare la serie di manifestazioni insieme all'associazione Evergreen ha anche previsto dei tornei che impegneranno i bambini in attività specifiche simulando così anche la socializzazione e la sana competizione l'evento la piazza e i bambini proseguirà per tutto il mese di luglio nei fini di settimana per concludersi il 2 agosto gli appuntamenti che seguiranno questo fine settimana di sabato 11 e domenica 12 luglio sono previsti nei giorni 16, 17, 18 e 19 luglio il fine settimana successivo nei giorni del 23, 24, 25 e 26 luglio per finire nei giorni 30 e 31 luglio 1 e 2 agosto sempre nell'orario dalle 20 alle 24 su questo appuntamento e su tutte le altre iniziative che l'amministrazione comunale possono essere e proporrà anche nei prossimi mesi per valorizzare e promuovere il territorio ne abbiamo parlato con il sindaco Rocco Cimino ascoltiamolo iniziamo in pratica dalla settimana prossima con una manifestazione per la quale si sta spendendo molto il consigliere Vito Antonio Gobucci che si chiamerà Bimbi in Piazza con sponsorizzata da imprenditori locali per cui a costo zero per il comune con dei gonviabili insomma per far sì che i bambini possano vivere alla piazza dalle 18 alle 24 di ogni weekend in modo che possano liberamente giocare socializzare e soprattutto portare più gente possibile in questo centro storico che merita di essere tanto valorizzato ma poi naturalmente ci sarà il periodo della Principessa Costanza una serie di concerti tra settembre e ottobre parte sponsorizzati dalla Proloco altri dalla Montepruno di Roccigno per finire con il Natale di Luci che sarà possibile riproporre quest'anno grazie all'approvazione della misura 1.9 intorno al presepio e successione di Luci che ci consentirà innanzitutto di valorizzare un nostro monumento nel caso specifico il seggio di San Francesco e poi di creare questo evento che l'anno scorso è stata una scommessa per altro vinta perché ha fatto come dire conoscere De Giano in contesti dove probabilmente non sarebbe mai entrato e che ha portato tanta gente ma sono certo che quest'anno ne porterà tanta di più termina qui il nostro TG io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti